Questo video è stato prodotto da Riccardo Zigarini Marcello Carapezza Lord Ioanni Rummukainen Nick Seiri Giovanni Lanzoni Matteo Bosi Daniele Sozzi Andrea Imaretti L'ultimo amore di Arsène Lupin di Maurice Leblanc Lettura di Libri in Pillole Illustrazione di Lorenzo Bisogni Tema musicale di Zero Capitolo 9 Il nemico si scopre Nonostante tutto Saveri era preoccupato Cora seguiva un altro uomo e l'ombra segreta di costui rappresentava un ostacolo che non poteva eliminare Risalì lentamente il viale dei Tigli fino all'entrata principale del parco ritrovò Giosefin con cui si congratulò Eccellente ragazzo mio Tutto ha funzionato perfettamente Te la sei cavata benissimo E ora? I tre assassini hanno svuotato i sacchi nella cripta del cimitero? Sì capo Non hanno preso niente strada facendo? No La chiave della cripta? Ce l'ho io capo E se ne sono andati tutti e tre? Tutti e tre Hanno attraversato il campo sportivo per recarsi allo zombar Ah meraviglia Ma Ilaria preoccupata Che cosa succede? Ho bisogno di lei capo Il problema è al di sopra delle mie forze Racconta Il vecchio Lacloche che era a bere allo zombar li ha trascinati con sé al mattonificio Era un po' ubriaco e all'improvviso furioso contro mia sorella Marie-Thérèse alla quale non ha perdonato la scena dell'altro giorno Beh le ha strappato il corpetto e l'ha fatta mettere in ginocchio per picchiarla Questo davanti agli assassini che aveva appostato nella galleria superiore Stava alzando il braccio quando sono arrivato Ha scherzato Ah vieni pure Josephine Stavolta ho preso le mie precauzioni Dubletur che i miei amici sono lassù con le pistole in pugno Se ti muovi ti ammazzano Siete pronti compagni Nessuna pietà Dobbiamo sbarazzarci del ragazzo oggi e poi del capitano che ci ha fatto fallire il colpo poco fa rubandoci così la nostra parte del bottino E ha alzato il braccio di nuovo brandendo una verga con cui ha sferzato la schiena di Marie-Thérèse che è caduta perdendo l'equilibrio ma si è subito rialzata Io ho gridato lei no con le braccia incrociate sul petto perché vedessero il meno possibile pallidissima fissava nostro padre con uno sguardo di sfida quasi ridendo ma con gli occhi folli di angoscia Guardate che bambina lui ha ripreso con rabbia a classe eh è il ritratto di sua madre Su Josephine allineati accanto a lei lo stesso colpo di verga servirà per due Coraggio ometto Devo prendermi la rivincita non vuoi? Sparategli voi lassù sparategli dannazione Deve morire oggi e anche il signor Lupin altrimenti nessun riposo per voi e per me Tirate uno due tre Beh ci sono state due detonazioni le pallottole si sono schiantate contro il muro a destra e a sinistra della mia testa allora sono scappato capo non ero capace di difendermi né di difendere la piccola Il capitano ordinò slanciandosi Passi di ginnastica Corsero con le mani sui fianchi e correndo lui vide che Josephine piangeva Sono solo un vigliacco sono scappato E hai fatto bene Inutile lasciarti massacrare Alla tua età i nervi non sono in grado di resistere Sei ancora troppo giovane per ridurre alla ragione tipi di quel genere E che cosa dovevo fare capo non avevo armi Neanch'io ne ho il che non mi impedisce di agire L'arma principale che vale quanto tutte le altre è il sangue freddo Un sangue freddo implacabile di cui ci si riveste come di una perfetta armatura che impressiona il nemico Lui vorrebbe proprio attaccare ma ha paura della reazione In anticipo la risposta gli pare superiore all'attacco e da dove verrà come si produrrà solo che ci vuole un quarto di secolo per possedere un sistema nervoso temprato nel modo giusto ed è la debolezza dell'educazione francese coltivano la nostra sensibilità quando invece dovrebbero forgiarci un'anima da vecchio osso duro fredda come l'acciaio aggressiva come un'ascia arrivarono al mattonificio seguimi come un'ombra devono vederti appena altrimenti ti prenderebbero di mira come a tennis si prende di mira il più debole dei due avversari raccattando una grossa pietra bussò con questa tre volte alla porta aprite in nome della legge i rumori che si sentivano all'interno si interruppero di colpo nel grande silenzio la voce del vecchio Lacloche sussurrò chi è là? il commissario di polizia e i suoi agenti aprite Lupin girò la maniglia nessuna serratura chiusa nessun catenaccio entrò gridando io il capitano Cocoricò e gli agenti? io ed è abbastanza sparategli sparategli farfugliò una voce strozzata in pochi balzi André de Saverie si arrampicò sulla scala interna e puntando l'indice disse se qualcuno di voi tre si muove peggio per lui il clic di una pistola che si armava il capitano si avventò su Dubleturk che urlò di dolore e si ingino chiedendo grazia con il polso destro pensolante come uno straccio Corugna borbottò il bandito mi conficca delle punte di ferro non di ferro rettificò il capitano Aghi non conosci il braccialetto d'acciaio? non conoscete quindi nulla e i pugni? eccone due pam pam sul muso dei tuoi compari che vacillano all'indietro sulle sedie sparatemi ora miei agnellini soghignò Saverie scendendo con tranquillità se ne guardarono bene dal basso il vecchio Lacloche si erse davanti a lui con la pistola puntata un bel calcio sul pugno fece cadere l'arma Lacloche gli stringeva il braccio ma privo di resistenza all'improvviso fu vinto supplicò come vuole che viva capitano mi ha fatto tanto male io? diamine so sette figli ce ne sono due che probabilmente sono suoi Giosephine e Marie Therese beh crede che non lo sappia? può darsi ma non è appurato e poi te ne restano cinque amo solo quei due ma li detesto anche quanto vuoi? non li vendo mi versi una retta per entrambi ah ne hai di astuzia una retta e il diritto di picchiarli eh? ovviamente Saverie si rivolse ai due ragazzi Giosephine Marie Therese miei cari fate i bagagli e seguitemi è incredibile ci vuole proprio entrambi andiamine non vi lascerò a questo brutto i due ragazzi si precipitarono gridando di gioia d'accordo la cloche li prendo con me in cambio di una ricevuta di 500 franchi che mi firmerai ogni mese 500 va bene ma mi si spezza il cuore li amo molto sai con una borsa piena si dimentica in fretta vecchio ubriacone i ragazzi stavano arrivando carichi di pacchi non mi abbracciate chiese la cloche piagnucolando sì con tutto il cuore Marie Therese si gettò prima al collo di Saverie allora lei sarebbe il mio papà capitano il mio vero papà ecco perché le voglio tanto bene ma mi risponda potrò dire che è il mio papà neanche per sogno prima di tutto non sono sicuro poi renderesti ridicolo la cloche dirai che sei la mia governante la mia dattilografa ma non so fare tutto ciò imparerai incomincia la vita di lavoro fuori Saverie annunciò Giusephine tu dormirai con me su una maca per te Marie Therese aggiungeremo un piano alla casamatta ah magnifico capo così la cloche non potrà più prendermi hai ancora paura di lui mi picchiava sempre perché non volevo farmi abbracciare povera bambina a ogni modo stasera dormiremo tutti e tre al castello dei tigli sono invitato al fidanzamento di Cora de Lerne con il principe d'Oxford troveremo oppure un fienile con una balla di fieno per noi due e un letto per la piccola strano matrimonio ringhiò Giusephine lo approva capo beh l'ho combinato io andrai a prendere e mi porterai il mio frac un gile bianco una cravatta bianca e delle scarpe di vernice troverai tutto nella mia valigia i piccoli saltellavano e uggiolavano intorno a lui come cuccioli di cane di tanto in tanto lui si fermava per calmarli e dar loro delle istruzioni state allerta entrambi eh sento che l'attacco non è finito state in guardia intesi io mi rilasso con dei guardiani come voi sono tranquillo il castello dei tigli era un lungo edificio dell'epoca di Luigi Filippo costruito un po' alla volta ampliato con torrette terrazze e dipendenze e interamente rifinito da un intonaco bianco che gli conferiva una certa uniformità un'ala indipendente fungeva da abitazione per il principe il suo seguito e il suo segretario Tony Carbet poi veniva il corpo principale occupato dai salotti e dalla sala da pranzo e sopra dalle camere del conte Erfol e di Cora sull'altro lato le camere degli ospiti dove il maggiordomo condusse il capitano e a pian terreno la cucina e i domestici le dipendenze proseguivano fino al massiccio torrione di una piccionaia in rovina gruppi di persone affollavano i salotti amici di Erfol venuti da Parigi e dai castelli dei dintorni perché il conte Erfol smanioso di vedere la giovane ufficialmente fidanzata con il principe di Oxford aveva avuto il tempo di invitarli per quella sera stessa André de Saverie fece sensazione per l'estrema eleganza e la disinvoltura da gran signore a tavola si mostrò di volta in volta spiritoso brillante artista pieno di vivacità e di allegria nell'intento di compiacere e soprattutto di piacere a Cora che pote pensare che si prodigasse solo per lei il segretario Carbet non aprì bocca Cora seduta tra di lui e il principe d'Oxford aveva orecchi e occhi solo per il capitano stia attento capo mormorò Josephine che Saverie incontrò nell'atrio sono proprio fra trenta e quaranta nel castello tanto meglio mi rimetto a te non si preoccupi capo disse il ragazzo con convinzione ho previsto tutto e Marie-Thérèse anche lei siamo belli e pronti bene Saverie e Carbet stettero vicini nel fumoir senza rivolgersi la parola ma dopo la partenza di tutti gli invitati quando Cora e il conte Erfol si furono ritirati nei loro appartamenti Tony Carbet bloccò Saverie mentre andava con la porta della sua stanza ho delle cose gravi da dirle capitano tra noi rispose il capitano tutto può essere solo grave perché mai diamine amiamo la stessa donna me l'ha dimostrato capitano e brutalmente chi dunque mi ha costretto a usare la violenza per fortuna c'è un terzo ladrone che ama anche lui Cora e comporrà la nostra disputa beh lo aiuterò con tutto il cuore disse il capitano sono dieci anni che preparo il loro matrimonio il che non le impedisce di perseguire i suoi piani privati Oxford mi deve tutto e lei non gli deve niente? niente sono tra quelli che non devono niente a nessuno nemmeno a me a lei una coltellata un giorno o l'altro ma lo rimpiangerò perché siamo fatti per intenderci non credo pregiudizi nei miei confronti? no disgusto disgusto senza motivo ci arriverà perché? mi spiego si accese un sigaro tre o quattro metri separavano Saveri dalla porta e lo isolavano in corridoio guardò fissamente Carbet il suo volto era interessante l'aspetto barbaro proveniva dall'atteggiamento energico che si imponeva per nascondere la timidezza naturale che Saveri aveva intuito a diverse riprese gli occhi erano azzurro acciaio il labbro superiore quasi sempre rialzato scopriva a sinistra denti da lupo bianchi e crudeli quello che non ingannava era un'aria di grande arroganza più tardi André de Saveri seppe che era di bassa estrazione essendo figlio di un palafreniere e di una donna di strada e le sue origini non gli permettevano di sentirsi a proprio agio nell'ambiente elegante in cui si muoveva come un outlaw alla ricerca di qualche brutto tiro Carbet ripetè mi spiego sono quello che chiamano un self-made man un uomo che si è fatto da solo istruzione educazione posizione sociale e mondana forza muscolare abilità salute devo tutto a me stesso e ho conquistato un prestigio tale per cui fui scelto vent'anni fa quasi senza referenze senza raccomandazioni come precettore del principe Edmond come professore di box equitazione compagno di viaggio eccetera Edmond era un idiota rinnegato dalla famiglia ne ho fatto ciò che è un gentleman onesto leale sportivo che occupa il suo posto nel mondo e saprà occupare quello che gli riservo gli ho anche ispirato un'ambizione la mia Che cosa vuole dunque? Che lui sia re per regnare sotto il suo nome non c'è possibilità il fratello del re attuale è in buona salute Beh, non c'è solo il regno di Gran Bretagna ne conosco dieci che sono in vendita o da conquistare ho il genio dell'intrigo e nessuna coscienza Bravo la mancanza di coscienza è una qualità essenziale se c'è un ostacolo lo abbatte Ne ho incontrati quattro tre non ci sono più E il quarto? È lei Ah, caspita avrà un bel da fare allora Lo so ho lavorato con Erlok Sholms mi ha detto se le capita di affrontare Arsène Le Pen abbandoni la partita è sconfitto in anticipo Saveri si inchinò molto lusingato ebbene la compro brutta parola è progetto stupido sono più ricco di lei Più ricco di me forse ma meno dell'Inghilterra Ah rappresenta quindi l'Inghilterra? Forse Che cosa vuole da me? chiese Andredo Saveri e cosa c'entra l'Inghilterra in questa faccenda? Carbet imbarazzato taceva alla fine dichiarò umilmente Vorremmo la sua collaborazione Per che cosa? è molto complesso E allora? Si spieghi detesto gli enigmi Ebbene ecco mi interesso infatti ai progetti agli affari del mio paese ma ho anche i miei progetti personali che non sempre coincidono Se ci assicurasse il suo aiuto sarebbe meraviglioso Il capitano alzò le spalle e scherzò Oh quanto è oscuro e misterioso tutto ciò pensa davvero che mi impiccerò di intrighi misteriosi di cui non mi dice niente? Allora le ho confidato troppi segreti per lasciarla vivere se rifiuterà di far parte del piano Rifiuto Mi piace la chiarezza e un individuo come lei non mi ispira niente di buono L'inglese estrasse una pistola Saveri scoppiò a ridere Erlok Shulms non le ha dunque detto che non mi presto mai a una conversazione pericolosa senza aver prima scaricato le armi dell'avversario? Ero nella mia camera da solo ho ricaricato la pistola cinque minuti fa Con finte pallottole pallottole senza polvere Carbet si adirò Voglio proprio vedere adesso sparo Se la diverte Forza compagni disse l'inglese aizzando con un gesto i complici stipati in corridoio Venti braccia si tesero Si udirono venti clic Nessuna detonazione Nessun fischio di pallottola E noti disse Saveri che non ho impartito ordini E' stato un mio giovane amico che veglia su di me ad avere l'accortezza di disarmarla conformemente con i miei principi Non del tutto Rettificò Carbet Infatti i complici si accalcarono intorno al capitano armati di coltelli Ah 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 fece lui ridendo I coltelli non contano davanti ad una pistola automatica Non ce l'hai Ti ho svuotato le tasche un'ora fa Mi stupirebbe che il mio segretario non avesse avuto la precauzione di darmene una Nello stesso istante sul vecchio soffitto a travi del corridoio si produsse uno scatto e scese una pistola automatica legata a una cordicella proprio di fronte al capitano che la ferrò e minacciò gli assalitori Una detonazione uno di loro cadde Gli altri fuggirono Alcuni tornarono mentre Saveri cercava di aprire la porta e dava loro le spalle Carbet scherzò Chiusa a chiave Chiusa a chiave Non l'avevi previsto vero? Ho altri che ci hanno pensato per me Aspetto Un cigolio di chiave una manovra di saliscendi la porta si aprì Marie-Thérèse esclamò scorgendo l'esile e pallida fanciulla raggiante di gioia Uscirono e chiusero a chiave la porta sulla quale si abbatterono poi colpi violenti Tra dieci minuti la demoliranno disse il capitano Ma lei sarà scappato dalle finestre? No i vetri hanno le sbarre Allora? Di là disse aprendo un armadio a muro nascosto dietro un arazzo e che scoprì i gradini di una scala che si infilarono Scendendo André de Saveri abbracciò teneramente Marie-Thérèse Mi hai salvato disse Come avete fatto tu e Josephine? Sa capo che il vecchio la cloche si era sposato una sesta volta con una donna abominevole sporca e viziosa chiamata Lali Mas è scomparsa due anni fa la cloche naturalmente la picchiava e mi ha molto stupito trovarla qui come aiuto cuoca a me voleva bene perché la difendevo e le davo da mangiare di nascosto altrimenti sarebbe morta di fame la conosceva capitano all'epoca in cui frequentava il mattonificio ed è lei che mi ha mostrato la scala così come ha indicato a Josephine la botola del soffitto ha fatto ancora meglio disse Josephine mi ha portato nella camera di Carbet insieme al cacciatore di scalpi quando suonò la campana della colazione Saveri si recò in sala da pranzo dieci minuti dopo Tony Carbet vi entrava a sua volta fu accolto da un'esplosione di risate aveva il cranio rasato a zero senza baffi senza sopracciglia né ciglia schiumava di rabbia mostrò il pugno a Saveri grugnendo è uno scherzo che mi pagherà con la vita che cosa succede Carbet chiese Edmund Oxford chi le ha lucidato il cranio non le si addice Furvie che era stato invitato alla serata e si era trattenuto a dormire spiegò a mezza voce al conte Herfall possono essere stati solo gli amici del capitano mi ha detto che una parte dei suoi allievi erano incaricati di rasare i tristi figuri che attentano all'onore delle donne e soprattutto delle ragazze il signor Carbet è stato punito per una vigliaccheria di questo genere sicuramente Edmund Oxford aveva sentito calugne monsignore dichiarò Carbet Saveri intervenne lei mente signore sono stato testimone dell'aggressione che è avvenuta ieri mattina nel maniero dove aveva portato la signorina Delaire dopo averla rapita la mia fidanzata esclamò il principe d'Oxford sì monsignore la sua fidanzata davanti alla quale accuso apertamente questo miserabile il principe d'Oxford protestò non è possibile vero Carbet si difenda che diavolo non ci si difende monsignore quando Saveri accusa il principe si stava gettando su di lui quando intervenne Cora monsignore solo io ho il diritto di giudicare la condotta di Tony Carbet nei miei confronti di lamentarmene o di disprezzarla la supplico di non attribuire all'incidente più importanza di quanto meriti il principe esitò prima di concludere prendo atto della sua dichiarazione Cora Carbet è un fedele compagno e mi sarei stupito della sua slealtà non parliamone più sta bene monsignore non parliamone più disse Saveri inchinandosi la questione sarà risolta un giorno o l'altro tra Tony Carbet e me per me è risolta proclamò il principe d'Oxford Carbet è mio amico il conte Erfol che si trovava vicino a Cora le disse a voce bassissima l'accusa esatta vero sì ma non ho voluto rendere pubblica l'offesa che mi è stata fatta comunque poiché Carbet abita sotto il suo tetto ritengo prudente lasciare il castello per alcune settimane per mettermi assicuro dalla sua vendetta che penserà Oxford a ciò che vorrà gli dirò che faccio una gita in auto con un'amica intende ancora sposarlo lei lanciò uno sguardo di sfida ad André de Saveri certo rispose poiché il capitano lo desidera il mio matrimonio con lui si farà a dispetto di Tony Carbet André de Saveri non aveva reagito alla provocazione rifletteva con aria grave poi disse a bassa voce ha ragione Cora è prudente andarsene perché credo che la lotta non sia ancora terminata l'accompagnerò a Parigi in automobile e parleremo per strada di cosa deve fare di cosa deve fare di cosa deve fare di cosa deve fare Grazie a tutti.